Ecco le chiacchiere che ci piacciono, croccanti, bollose, vuote dentro e buonissime e se lo fate io le puoi fare anche tu. Metti in una ciotola la farina, lo zucchero, la scorza d'arancia, il succo, il liquore, due uova, un pizzico di sale e il burro morbido a pezzetti e mescola con le mani. Quando inizia a compattarsi continua invece ad impastare su un piano da lavoro fino ad ottenere un panetto morbido ed omogeneo. Trasferiscilo nella pellicola e fa riposare a temperatura ambiente per mezz'ora. A questo punto puoi creare le tue chiacchiere usando una sfogliatrice o a mano, ti spiegherò entrambi i modi. Dividi in parti, tira con una sfogliatrice una sfoglia molto sottile e taglia poi con una rotellina, altrimenti stendi su un piano da lavoro una sfoglia sottile come un velo, dividi poi in rettangoli e fai il taglio al centro creando la forma delle classiche chiacchiere. Metti in una padella abbondante olio e fai una prova, emergi un piccolo pezzo di impasto, quando vedi tutte le bollicine vuol dire che l'olio è arrivato a temperatura e sei pronto per friggere. Friggi poche chiacchiere alla volta, pochi minuti per lato, mi raccomando fate attenzione che tendono a scurire velocemente, decora con lo zucchero a velo e gustale e poi vedi che ti mangi!